Aspetta, aspetta, la gissa di nonna poi... Avvio. Buongiorno, sono le 11.06 dell'8 novembre 2021, questa è la Commissione Garanzia e Trasperanza e siamo al primo appello e procedo a chiamarvi. Italiano assente, Giaconia assente, Arcoleo assente, Di Pisa assente, Ferrandelli assente, Ficarra, Forello assente, Lomonaco assente, Medi assente, Susigno assente, Russo assente, Tantillo assente, Gelardo assente. Non essendo raggiunto il numero legale, ci si aggiorna fra un'ora e più precisamente alle 12.07. Va bene, richiamiamo 12.07, a più tardi. Grazie, arrivederci, arrivederci.